Siamo con la famiglia Paladin che finalmente è riuscito a mettere un piede in Toscana che sembra l'ambizione un po' di tutti, in un posto tra l'altro bellissimo come Radda e Inchianti ma appunto abbiamo qui Roberto, ci facciamo raccontare la famiglia Paladin, cosa vuol dire nel mondo del vino. La nostra famiglia è impegnata in particolar modo nel vino da inizio anni 60 in particolare tra Veneto e Friuli, quindi con una selezione particolare sia di vini friulani e anche di vini veneti e in particolare nel 2004 abbiamo fatto un'acquisizione di un'azienda in Toscana, Vescine siamo a Radda Inchianti, cantina di Castelvecchio, una cantina del 1100, una delle più vecchie cantine d'Italia dove praticamente è nato il Chianti storico e Vescine si caratterizza anche per un'importante particolarità che è quella dei vigneti sono vigneti che sono tanti con altitudine attorno ai 550 metri sul livello del mare e questo ci dà la possibilità di avere un Chianti che è abbastanza particolare, un Chianti che è unico Ci fa piacere sentire che le note di Radda si sentono, questa dolcezza bellissima del Sangiovese che viene fuori questa sfumatura d'arancio, questa mineralità, effettivamente l'idea di questa altitudine gli dà qualcosa in più e parlando di tradizione, però appunto la famiglia Paladin viene da una zona abbastanza lontana e lì le tradizioni, un vino di casa, non è Chianti Classico ovviamente ma è il... Il Raboso, il Raboso è un vitigno autoctone, un vino storico altrettanto quanto il Sangiovese è conosciuto anche proprio per le grandi esportazioni di vini che sono state fatte partendo dal porto di Venezia che sono arrivate poi in tutto il mondo questa è una bottiglia particolare, una selezione particolare che abbiamo fatto in occasione del trentesimo anniversario quindi è sicuramente l'eccellenza per quanto riguarda il vitigno Raboso Noi lo proponiamo da trent'anni con una selezione particolare di uve di Raboso vinificate con una particolare cura per conservare quelli che sono tutti quanti i profumi e gli aromi particolarmente fruttati di questo vitigno qua che si esaltano quando il vino è giovane Già dal naso c'è appunto questi profumi vinosi, intensi, di ciliegia, molto vivace e in bocca è un vino freschissimo, effettivamente adatto all'aperitivo, alla serata estiva però secondo me non disegna nemmeno la tavola Va benissimo per l'estate, va servito freddo come un vino bianco e qua ne esalta tutte quante le sue caratteristiche è un vino che come abbinamento oltre all'aperitivo viene praticamente apprezzato con pesce rosto, con pesce fritto va abbinato anche alla carne alla griglia, in particolare carne di maiale Quindi quest'estate sicuramente abbiamo qualcosa in più da provare per animare la nostra serata Grazie Roberto, grazie Palladini Grazie a te Andrea